Ho appena depositato un atto ispettivo urgente perché da circa un anno chiediamo alla Regione Marche di stanziare risorse per l'aumento dei posti nei nidi. Invece gli ultimi stanziamenti sono arrivati solo per altri tipi di interventi, ad esempio per i voucher, che in realtà non sono così necessari per le famiglie come invece l'aumento dei posti, tant'è vero che molti hanno già altri tipi di bonus e non possono usufruire dei voucher. Si rischia così di trovarci nella situazione in cui quando serve il pane si danno semplicemente delle brioche alle famiglie come avveniva in Francia. E quindi chiedo all'assessora Biondi ai servizi educativi e mi dovrà rispondere, dato che è un'interrogazione urgente martedì in aula, cosa intendano fare per permettere ai comuni di aumentare i posti nei nidi e soprattutto se le risorse già stanziate per il 2024 possono essere utilizzate anche a questo scopo, perché invece così non sembrerebbe in base alla misura europea che ha liquidato questi fondi.